Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Volevo farvi vedere un po' gli ultimi mini acquisti che ho fatto fra dicembre e gennaio. In realtà alcune cose le ho lasciate a casa in Italia perché le ho già lette, quindi vi lascio sotto come sempre link alla mia pagina, al mio profilo Goodreads, così potete vedere di cosa sto parlando. Dunque, come sapete io frequento tantissimo i negozi dell'usato, i vari charity shops che ci sono qua e ultimamente ho trovato delle chicche che mi sento molto fiera di condividere con voi. Il primo è Emanuel for Cleaning Women di Lucia Berlin, non so bene come si pronuncia il suo nome, il fatto sta che in realtà la proof non è questa la copertina vera, infatti c'è scritto che appunto doveva essere pubblicato il 10 settembre del 2015 e mi pare che appunto sia infatti uscito. Tra l'altro la prefazione è stata scritta da Lydia Davis che è una scrittrice che mi ispira tantissimo, ho letto qualche suo articolo e vorrei leggere i suoi racconti prima o poi e niente, qua ne hanno parlato veramente molto bene, dovrebbe essere una raccolta di racconti molto interessante e quindi sono contenta di essermena accapparrata. Successivamente ho trovato i diari di Catherine Mansfield in questa bellissima edizione Persephone. Come saprete sto leggendo i diari di Sylvia Plath e mi stanno piacendo moltissimo, mi piace proprio molto come genere e in questo caso pur essendo nell'usato ho trovato, c'era il suo segnalibro abbinato, a volte comprandoli all'usato questi mancano i segnalibri. Dicevo però è un genere che mi piace molto, quello dei diari personali e quindi sono molto curiosa anche perché non ho mai letto niente di questa scrittrice e mi sembrava un modo interessante per entrare un po' nel suo mondo. E sempre in tema scritture personali, ho trovato The Lairers Club di Mary Carr che sto leggendo e che mi sta veramente piacendo molto. Se seguite Ashley di Candace Tax capirete perché l'ho preso, perché lei ne parla spessissimo, le ha letti tutti, credo, i suoi libri. E tra l'altro, non so se avete visto, ma io ho trovato questa edizione con la prefazione di Lina Dunham, quindi top, meglio di così non poteva andare. È un memoir, racconta appunto la sua infanzia, perché qua si parla, comincia nel Texas nel 1961 ed è lei che racconta appunto della sua famiglia abbastanza sgangherata e strana. E' molto vivida, ricorda in maniera molto vivida vari fatti della sua infanzia, quello che dicevano i suoi genitori, racconti di famiglia. È veramente molto bello ed è anche molto onesto, molto crudo anche. Ci sono delle parti che, non so, presumo abbia fatto molta fatica a scrivere. Passiamo invece ai libri che ho preso in Italia, partendo da un libro che è in realtà una raccolta di poesie, che avevo visto sul profilo di Libridine, sulla sua pagina Facebook, scusate, che vi linko sotto come al solito, ed è La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore, di Chandra Livia Candiani. In realtà l'ho finito di leggere, perché l'ho comprato il giorno della vigilia e l'ho finito entro la fine dell'anno, diciamo. Però, come potete vedere, ho veramente segnato l'universo. È minuscolo, è leggerissimo, quindi volevo avercelo anche qua. Io non so parlare delle poesie, diciamo che mi sono ritrovata moltissimo. e quindi, non so, penso che nella poesia, più che nella prosa, sia fondamentale, in un certo senso, sentire la propria voce, sentire uno stesso modo di sentire. Ecco, perché non scrivo poesie, perché non so parlare. E qua mi ritrovavo veramente a sottolineare tutto, a quasi sentire la mia voce, in certi casi. E niente, io ve lo consiglio, anche se non so bene come spiegarvi perché dovreste leggerlo. Fatto sta che appunto è veramente sottilissimo, quindi non è una di quelle raccolte che possono incutere timore, perché magari sono di mattonacci. È veramente, veramente molto, molto bello. Sempre in Italia, però, in questo caso a Venezia, ho preso due volumi che mi ispiravano molto. Il primo, perché l'ho visto, veramente sentire parlare tantissimo su internet, ed è l'arte di collezionare mosche. Non pronuncerò alcuni nomi, perché di questo è il prossimo libro, perché va bene così. Questa dovrebbe appunto essere una storia di quelle, in un certo senso, senza trama, come le definisco io. Però appunto molto intimiste, in un certo senso, non lo so. Ho letto, ne ho sentito parlare bene, ho letto la quarta di copertina, mi ispirava, fatemi sapere se l'avete già letto. E niente, fatemi sapere se ho fatto bene a comprarlo. Il secondo, che avevo cominciato a leggere in treno, e poi adesso l'ho messo in attimo in stand-by, è Il porto dei sogni incrociati, sempre della stessa casa editrice. Questo mi è piaciuto moltissimo per la copertina, perché parla di mare, di porti, di marinai, è sempre un argomento che mi affascina molto, mi piace molto il mare. E quindi, non lo so, mi sembrava bello prenderlo. Queste due le ho presi a Venezia, forse l'ho già detto. Anche perché è buono, mi sembrava appropriato. E infine, l'ultimo libro che invece ho comprato alla libreria Inaudi a Trieste, e questa è tutta colpa di Diana, è L'Atlante degli abiti smessi di Elvira Seminara. È stato un parto trovare questo libro, appunto sono dovuta proprio andare all'Inaudi per trovarlo, perché a casa mia non l'avevo trovato, in altre librerie a Trieste non l'avevo trovato, a Venezia non l'avevo trovato, insomma, un parto. E mi ispira tantissimo, se appunto, come immagino, farete, seguite Diana, avrete visto che ne ha postato tantissime citazioni, ha scritto anche una recensione, mi sembra, per il suo blog, e è scritto così, come se fossero entrate di un dizionario, se vogliamo, di un'enciclopedia, quello che volete, e mi ispira tantissimo, mi sembrano di quelle letture molto in linea con il mio modo di pensare, di sentire. E niente, spero che questo piccolo book haul sia stato di spunto per qualche lettura vostra, fatemi sapere, appunto, se avete letto qualcuno di questi titoli, e niente, ci sentiamo sotto nei commenti per chiacchierare. Ciao!